Volevo farvi vedere questa cosa. Allora, noi abbiamo una campana qui, per esempio, che suona relativamente poco rispetto alle altre in questo modo. Suona, eh? Perché suona. Ma, come sapete, non abbiamo solo questo modo per suonarla. Possiamo anche battere la campana. Cioè, in questo modo. E nonostante gli armonici siano gli stessi, perché provengono dalla stessa campana, il risultato d'effetto è diverso. Quindi volevo proporvi insieme il sentire, appunto, di questo effetto. Il risultato d'effetto Il risultato d'effetto Il risultato d'effetto 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 d'eff trovate il mio contatto sul sul sito grazie e arrivederci